Si riparte mister per una nuova sfida, ritorno in Serie D anche per lei oltre che per il Teramo, con quali obiettivi e con quali aspettative? Aspettative alte però l'importante è che si riparte con tantissimo entusiasmo, con la consapevolezza che andiamo a affrontare un bel campionato, un campionato molto competitivo, dove andremo a affrontare veramente tante piazze importanti, tante piazze storiche come il Teramo. L'obiettivo è quello di cercare di fare il massimo, però con la consapevolezza, come ha detto prima il Presidente, davanti a noi sono quelle 5-6 squadre che a livello di esperienza e di budget stanno avanti a noi, però noi dobbiamo cercare di fare il Teramo, cercare di onorare al massimo questa maglia, che è una maglia importantissima e come ho detto prima cercare di portare a casa sempre il massimo. La terza stagione in bianco-rosso fa felice anche lei? Ma come no, sono contentissimo, sono contentissimo, è una cosa inaspettata, se io ripenso al primo giorno quando sono arrivato a Termo, credetemi, era difficile da immaginare un epilogo del genere, sono contento, però l'ho detto prima in conferenza stampa, io adesso del passato è un bellissimo ricordo, ma non ci devo pensare più, dobbiamo pensare al presente e al futuro perché ci aspetta un campionato veramente difficile. Si può dire che si ripartirà dalla idea tattica che abbiamo visto anche in eccellenza, 343, 3421? Si, si, l'idea è quella di ripartire con questo modulo, poi lo sapete il campionato dell'ettantista è un campionato particolare dove gli under fanno la differenza e noi da quel punto di vista dobbiamo ancora muoverci, anzi ci sta muovendo, però dobbiamo ancora definire la rigoletta degli acquisti, quindi a secondo degli acquisti e a secondo degli under, dei ruoli che troviamo poi io mi regolo di conseguenza, però è normale, l'idea mia è quella di cercare di ripartire con quel modulo. Sarà una serie D di grandi piazze? L'ho detto prima, piazze veramente importanti, secondo me è come la vecchia C2, sarà un campionato affascinante da giocare, bellissimo da giocare, è importante però farlo nel migliore dei modi con la testa giusta.